E' atteso per la giornata di domani il prossimo bollettino medico sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi ricoverato da mercoledì scorso nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano. Dopo il secondo diffuso lunedì scorso, firmato da Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, in cui si parlava di un cauto ottimismo e di un progressivo e costante miglioramento, il nuovo bollettino è previsto per domani, giovedì 13 aprile.